Ora questo qui vado a bloccarlo, da questa parte, ok, da qui a basso, mano sinistra entra dentro qui, lo levo il tuo braccio, occhio a questo aspetto, poi vado a chiudere così. Allora, qui, 1, 2, 1, faccio piano, eh, è il mio col mio colpo, portando questo qui, da questa posizione, il sinistro entra, aprendo questo, da questa parte, cioè, batti la mano qua, ok, e poi vado a chiudere. Storicamente, io dovrei portare questo qui, in spezzo del braccio, ok, qui, 1, 2, facciamo un video di questo, così non diretta. Allora, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3. Questa è in asse, qua, è a basso, ok, da qui, mano sinistra, hand, misterio. Allora, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 4, 10, 1, non si fa mai lì allora, non si fa mai lì il bloccato qua ok? questo va da questa presa questo gira vado a prendere questo ecco, è forte questo qui questa postura è molto utile grazie